TANERI NECHAVA Dio creatore e padre che hai affidato la terra ai suoi frutti alle mani dell'uomo perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorano al bene di tutti lieti di operare per la crescita della società per Cristo nostro Signore Ravviva in noi o padre nel segno di quest'acqua benedetta la lesione a Cristo pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore e la benedizione di Dio Nicotente, padre, figlio e spirito santo discenda su di voi e con voi rimanere sempre e auguri grazie a tutti